Svolgono una professione che li gratifica molto, ma che li porta a passare diverse ore con i bambini in braccio o a inginocchiarsi e devono costantemente relazionarsi con figure genitoriali, con il rischio di veder scoppiare un conflitto. È questo l'identikit di lavoratrice e lavoratori di nidi e scuole di infanzia al centro del report Abicura di Te sulle patologie di origine professionale voluto dalla FP e dall'Inca CGL in collaborazione con la Fondazione di Vittorio e presentato il 3 settembre alla Camera del Lavoro di Ravenna. La ricerca evidenzia come almeno il 50% dei lavoratori degli asili nido e delle scuole per l'infanzia, maestri, educatori, operatori, addette alla cucina e personale ausiliario, riscontri la presenza di problemi fisici alla schiena e abbia vissuto aggressioni verbali nella relazione con i genitori dei bambini. L'indagine è stata svolta su un campione di oltre 600 lavoratori per il 97% donne e sottolinea come il lavoro negli asili nido e nelle scuole per l'infanzia possa essere molto complesso e gratificante al tempo stesso. Nonostante le difficili condizioni di lavoro, sottolineano dalla CGL, non stupisce che la maggior parte delle lavoratrici, circa l'85%, si ritenga soddisfatta di poter svolgere queste professioni. D'altra parte, l'indagine ci restituisce una descrizione piuttosto critica delle condizioni di lavoro e di salute cui queste lavoratrici sono sottoposte. È dunque necessario, una volta comprese le criticità del settore, elaborare dei percorsi di tutela dei lavoratori, sia a livello individuale che collettivo, che comprendano nuove assunzioni, allo scopo, tra gli altri, di suddividere i carichi di lavoro, oltre che per rispettare il rapporto numerico insegnante-bambino, per prevedere percorsi di pensionamento specifici per la professione, contrastando la tendenza di tante amministrazioni a risparmiare sul costo del lavoro.